A casa mia abbiamo cominciato subito alla sera a fare la conta. Quando abbiamo cominciato a vedere arrivare a casa i soldati dal fronte, io venivo in stazione a Reggio per vedere se arrivava anche mio fratello e che non l'ho mai più rivisto. Quindi quei sei fratelli, quella famiglia così numerosa che il Duce volle premiare con il diploma, alla fine della guerra era così. Tre morti, un perseguitato politico, un ostaggio. Quindi la gioia della liberazione c'è stata però molto, molto limitata.